Ciao, oggi mi trovo a Lanciano in uno dei quartieri più richiesti e più amati della città, il quartiere del famoso Viale Capuccini. Un quartiere ricchissimo di servizi ma la cosa più importante è in assoluto il quartiere che ospita tutte le scuole della città di ogni ordine e grado. Quello che sto per farti vedere è un appartamento di ampie dimensioni al secondo piano della palazzina che vedi alle mie spalle. È recentemente rinnovata dall'esterno ma quello che sto per mostrarti ti prometto che ti affascinerà anche nell'interno. Eccoci all'interno di questo magnifico appartamento. Sono gli appartamenti quelli che ci piacciono, che ci piacciono davvero perché sono appartamenti di ampi spazi, di luce, di grande camere e di tanta tanta accoglienza. Attualmente mi trovo nella zona del salone, un doppio salone, un soggiorno molto grande, come vedi, molto luminoso, accompagnato da un grande terrazzo. E alle mie spalle, all'ingresso, troviamo una crudissima zona a pranzo con la sua cucina in vista. E tutto questo ci permetterà di godere gli spazi dedicati alla nostra giornata veramente, veramente comodi e molto piacevoli, ecco appunto, per la loro grande dimensione. Da questo punto invece del salone accediamo al disimpegno che ci porta nella zona notte. Qua abbiamo un comodissimo ripostiglio, una camera singola pronta per diventare un fantastico studio, una cabina armadio, un ufficio o magari perché no una camera, una camera piccolina per gli ospiti. E invece abbiamo ben tre camere da letto matrimoniali, tre camere da letto veramente spaziosi e due bagni, due comodissimi bagni a servizio della zona notte. Io amo. le case con i balconi, con i terrazzi, con questi spazi aperti che ci permettono appunto di goderci l'aria, l'aria aperta, il sole, proprio gli spazi aperti, io le adoro. Ti ricordo che è la nostra posizione, è una posizione riservata, nonostante un quartiere pieno di vita e pieno di servizi, però la posizione è anche riparata, il che ci regala proprio la giusta tranquillità che ci piace e che serve. Adesso io scendo Vorrei da qui farti riappilo di ciò che ti ho mostrato oggi. Abbiamo visto un appartamento di 170 metri quadri al secondo piano di questa palazzina, un appartamento sito in via Troilo a pochi metri da Viale Capuccini. Abbiamo visto un appartamento veramente, veramente bello, un appartamento che comprende una grande cucina abitabile con all'interno una zona pranzo comoda, una cucina in vista, un doppio salone servito da comodo terrazzo e una zona notte che comprende tre camere da letto matrimoniali, una camera singola, due bagni, un ripostiglio, un alto terrazzo e un balconcino piccolino. Completa la proprietà un comodissimo e utilissimo garage di 21 metri quadri al semi interrato della palazzina. Io trovo questa proposta immobiliare molto molto adatta a chi cerca una proprietà per sé o per la propria famiglia con ampi spazi, con una comoda superficie e in una zona dotata di tutti i servizi. Penso che per una famiglia sia veramente una proposta molto 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 vincente. Adesso non mi resta che salutarti, ricordarti intanto di mettere un like a questo video, iscriverti al nostro canale, ti ricordo unico modo per essere sempre sempre aggiornati sulle nostre nuove proposte. Adesso ti saluto, ciao, gabbetti e sei già a casa.